tanti saluti a tutti buon anno a tutti stasera mercoledì 6 gennaio 2021 mezzanotte di sera questo nuovo cartello che ho fatto oggi 6 gennaio 2021 e questo cartello che ho fatto ieri questo cartello che ho fatto ieri tanti saluti a tutti questo cartello che ho fatto ieri 5 gennaio 2021 tanti saluti a tutti da tafnatno angel da the bulldog international research center tanti auguri a tutti